Come potrei mettermi Da parte dei soldi per il campo Mamma? Che fai? Sono i soldi per il campo Ah ma sono per il campo Tieni Tieni Brava Marta Non ti avevo chiesto di tagliare l'erba? No babbo adesso non mi fa voglia Sto leggendo Cosa non farebbero i ragazzi per andare al campo Salve Ciao Solo vendi per favore Ok grazie Salve vuoi comprare dei biscotti fatti in casa? No no grazie Ma sono senza olio di palma Ciao ragazzi Questi erano i nostri metodi per raccogliere i soldi per il campo giovani Adesso tocca a voi Mostrateci con un video una foto i vostri aggiungendo l'hashtag Fondo Campo 2017 I primi tre classificati riceveranno un buono sconto per il Summer Camp Che aspettate? Mandateci le vostre idee Assemblare il tuo barattolo è un gioco da ragazzi Stampa l'etichetta Ritagliala Incollala su un barattolo Ed ecco fatto Buon divertimento Grazie